Allora, con noi il Monsignor Marco Salvi. Quest'oggi, insomma, si presenta queste... Le opere arte raccontano questo, insomma, percorso che ha iniziato, che la Corri ha iniziato, di riveterizzazione e anche di riqualificazione di questi siti. È un progetto importante, no? Sì, è un progetto che è nato alcuni mesi fa nel periodo del lockdown. E' quello di rivalorizzare quel patrimonio di arte, di bellezza e di fede che possa dialogare e essere proposto a tutta la società. È stato un percorso iniziato alcuni mesi fa. Abbiamo creato una società senza fini di lucro chiamata Genesi per la gestione di questi beni, soprattutto cominciando dal Museo Capitolare, che è stato preso in gestione. E oggi è una tappa molto importante, perché in questi tre giorni avverrà prima l'inaugurazione della Pala di Santo Nofrio, rimessa, diciamo così, nella possibilità della visione per tutta la città di Perugia. Tant'è vero che abbiamo detto che c'è l'entrata gratuita per tutta la fine settimana, proprio per vedere questa bellezza così vicino. Quindi il riallestimento del museo e sopra una parte del museo ancora non finita, l'apertura degli scavi che sono stati messi a norma e è stato creato un percorso ad hoc. E domani il bel convegno con la direttrice dei Musei Vaticani, la dottoressa Iatta, che ci introdurrà al pittore perugino che nel 2023 avremo il cinquecentenario della morte. Signore, questo progetto, curato appunto, come diceva, da Genesi, è dato anche grazie al contributo di aziende come l'Agrifolatte, che hanno aziende del territorio, che si occupano anche di aspetti sociali. Quindi è importante il loro contributo. È stato decisivo e quindi ringrazio tutti i nostri sponsor, tra cui l'Agrifolatte, che ci ha aiutato a riallestire la sala proprio del Signorelli. E' un momento importante, perché l'Agrifolatte è un'azienda leader qui nel nostro territorio e ha voluto partecipare con noi a questo tipo di impegno. Ringrazio proprio il Presidente e tutta la società per questo impegno. Grazie. Con noi il Carlo Catanossi, Presidente dell'Agrifolatte, il gruppo Grifo Agroalimentare. Presidente, questo impegno dell'azienda, un'azienda come l'Agrifolatte, nel cercare di rivitalizzare, riqualificare dei siti importanti, archeologici, insomma, della storia della nostra regione, penso sia una missione importante. Ma i siti si qualificano da sé. Il luogo non è eccelso soltanto perché sta in alto, è eccelso perché è veramente molto importante e molto bello. Il nostro può essere solo un ruolo di concorrere a fare in modo che questo territorio riparta. Questo territorio riparta dalle cose positive, riparta dagli impegni di chi può, riparta dalla volontà che abbiamo tutti di farlo apprezzare, farlo apprezzare sempre più, farlo apprezzare sempre meglio. Non basta avercele le cose, bisogna farle conoscere e farle vedere. Vedere è anche bene. Credo che lo sforzo che si stia facendo qui sia un po' questo, quello di avere delle cose e aver deciso che queste cose sono cose importanti per la nostra città, ma per il nostro territorio, per la nostra regione e per un itinerario nel centro Italia che diventa sempre più qualificante.